Decisioni contraddette alla giornata. Sono quelle che prende, anche perché è costretto dalla pressione migratoria, il governo di Budapest. Questa mattina è stata nuovamente evacuata la stazione est, da cui i migranti partono con destinazione Vienna per proseguire in Germania. Fino a lunedì sera tutti potevano partire, bastava avere un biglietto valido, visto che la Germania ha dichiarato che accetterà centinaia di migliaia di profughi siriani. Quest'anno, ieri sera chi era riuscito a salire sui treni era felice. Siamo venuti da Istanbul, attraverso la Grecia, la Serbia, l'Ungheria e l'Austria e da lì andremo in Germania, dice quest'uomo. Poi però le cose sono cambiate alle 8.30 di questa mattina. Le autorità hanno bloccato tutti i treni da e per Budapest Est. La polizia ha usato le maniere forti e centinaia di persone si sono radunate fuori dalla stazione gridando Germania, Germania. In tarda mattinata la stazione ha riaperto, non senza grandi difficoltà, per i viaggiatori regolari e i migranti sono rimasti fuori.